Davide Caparini, ci sono buone o cattive notizie per le imprese da Valcamonica che hanno lavorato per l'ILVA? Purtroppo sono cattive, anzi pessime, in quanto le loro richieste, ovvero di essere pagati per il lavoro che hanno fornito, non sono state accettate. Non sono state accettate in quanto non ci sono abbastanza risorse, ha detto dello Stato, ricordiamo che in due anni e mezzo la gestione straordinaria ha accumulato qualcosa come 3 miliardi di debiti e grandissima parte di questi debiti sono nei confronti delle nostre imprese, stiamo parlando di alcune decine di imprese tra Bergamo e Brescia e alcune migliaia di lavoratrici e lavoratori o liberi professionisti che hanno lavorato, hanno accumulato questo credito e che a un certo punto a gennaio gli è stato detto che non gli sarebbe stato riconosciuto e questo ovviamente getta nella disperazione chi contava di avere quel denaro per continuare a fare impresa, per continuare a mantenere la sua azienda o chi attraverso quelle forniture poteva dare lavoro ad altri. Insomma tutto il comparto è bloccato a causa di una decisione di un commissario e a causa di un governo che non è in grado di risolvere la situazione ma ha una visione statalista per cui i debiti non esistono e comunque si può andare avanti senza pagare le persone che lavorano.